Sono Angela Moraes, sono dell'Anglista dell'Immacolata e anche del Signis Brasil. E lì, in Brasile, lavoriamo con tanti mesi di comunicazione e uno di quelli che sono più responsabili in questo momento è la radio. Tanti progetti che facciamo insieme, facciamo un notiziario da lunedì a venerdì, dalle sette a sette e mezza, insieme e in collaborazione lavorano più di 15 radio e questo notiziario si vede in più di 80-90 radio in Brasile. E dopo che il notiziario è finito mettiamo lui nel podcast, nel portale della Redi Cattolica di Radio e lì più o meno ogni giorno sono 2.000 download di questo notiziario. Questa è una bella esperienza di comunione e anche di collaborazione di tante radio e tante esperienze della notizia del Brasile, sia della Chiesa o anche della società.